Qual è il risultato tangibile e pratico per il mondo agricolo? Qual è il risparmio sostanziale dell'uso del combustibile e del gasolio? È facilmente intuibile quando partiamo dal concetto dell'etterocultura e quindi dalle lavorazioni conseguenti alla ratura, all'affinamento del terreno, arriviamo oggi invece tramite l'agricoltura di precisione ad avere se vogliamo anche una semplice semina su sodo accompagnata da eventualmente altre lavorazioni molto superficiali. Quindi è facilmente capibile che rispetto ad una ratura dove si utilizzavano determinati quantitativi di combustibile si va oggi sostanzialmente a ridurre o quasi d'azzerrare l'utilizzo del gasolio. Questo è un elemento importante, non fosse altro per la crisi geopolitica che stiamo vivendo in queste ore e abbiamo questo prezzo del combustibile che è ormai arrivato alle stelle a dei livelli insostenibili per la competitività delle nostre imprese. L'agricoltura di precisione ci porta anche ad ottenere un'altra economia che è legata ad un migliore utilizzo, ad una maggiore valorizzazione dell'elemento fertilizzante. Sappiamo che con la Farm to Fork abbiamo una riduzione considerevole dell'utilizzo degli input chimici, questi sia nell'ambito azotecnico che nell'ambito degli agrofarmaci e anche nell'ambito delle concimazioni. Queste tecniche ci consentono quindi di valorizzare al massimo l'utilizzo ad esempio dell'urea e quindi sotto questo profilo ci consente anche di fare un'economia proprio perché anche l'elemento concime oggi che deriva sostanzialmente dal petrolio ha dei costi veramente insostenibili per le nostre imprese. Ecco, sul carbon farming gli aspetti qualificanti riguardano sia i dati che il metodo con cui vengono effettuati i monitoraggi, le verifiche e i controlli. Per poter ottemperare a questo programma comunitario di una strategia di larga portata ogni regione avrebbe la necessità di definire una baseline da cui partire per poter fissare degli obiettivi ambiziosi ma raggiuncibili e realizzabili stabilendo anche i costi per poterli raggiungere e le compensazioni da erogare a favore degli agricoltori virtuosi che su base volontaria aderiscono a questi modelli. In Puglia è stato realizzato un primo modello della valutazione di impatto per il periodo 2014-2020 che ci porta a delle differenze sui seminativi tra il convenzionale e il conservativo di circa il 16% del contenuto di carbonio organico. Quindi significa che il trend è positivo, il monitoraggio deve proseguire nel tempo, sarebbe interessante estendere il modello anche alle altre regioni italiane. Nel valutare la potenzialità che hanno i nostri suoli di sequestrare carbonio bisogna considerare che l'accumulo di carbonio non è infinito, ovvero i suoli tendono a accumulare però l'accumulo non è lineare per cui si raggiunge nel tempo un plateau che rappresenta il punto di saturazione del suolo. Ora questo punto di saturazione è in funzione non solo dell'input che noi abbiamo applicato ma anche in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche dell'area in cui andiamo a distribuire la sostanza organica sotto diversa forma, sotto forma del residuo culturale o sotto forma di refluo zootecnico. Io penso che siamo di fronte a un cambiamento epocale, un cambiamento che riguarda tutti noi agricoltori e il rapporto che abbiamo con la comunità europea e con i cittadini. Oggi ci viene data l'opportunità di dimostrare quello che sempre abbiamo fatto, che meglio possiamo fare adottando determinate tecniche che sono più attente non solo nei riguardi dell'ambiente ma anche nella fertilità di quello che è la nostra risorsa principe per la produzione agricola che è il suolo e la possibilità di arrivare a un mercato di crediti di carbonio che premino l'assorbimento della CO2 atmosferica e la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Questo ci permette laddove noi facciamo agricoltura di ripulire in qualche modo l'aria, sequestrando la CO2, riducendo le emissioni proprio laddove abbiamo la maggiore concentrazione antropica. Un nuovo rapporto con i cittadini e un riconoscimento economico per questo servizio ecosistemico che noi generiamo, quindi un qualcosa in più che noi diamo.